... Vincitore di una tappa domenica a Chaserna, bello il cambio di saluti con la compagna di scuderia, ha vinto la terza, la quarta tappa del campionato regionale Marche, quella recuperata con il circolo eppico McCallan, vediamo se Riccardino oggi è concentrato, va molto forte e qui si disegna un grande side pass, roll back per lui, grande la classe non è acqua Riccardino, vediamo se mi cava, deve calare fuori il primo percorso netto, va su Barrel, velocissimo, tende a questo porter horse dell'allenamento di Leoni, Stefano di Urbania, mano sinistra e gamba sinistra come il suggerimento dato da Paolo Vitali, ho scortato i trucchi, adesso svegliamo, mano sinistra e gamba sinistra, velocissimo quello per Riccardino, Truffelli, occhio, bene anche il suo, alla sua girata 3.60 è già arrivato all'ultimo stacolo, il tempo è buonissimo finora, e ragazzi il leader della prossima provvisoria, la più le con 77.60, netto, primo percorso netto, 77.60 basta di premiarlo, basta il secco, non lo premiamo, dammelo in beneficenza a questa coppa vince la sesta tappa, il secco su Leo, Sciccic, Truffelli, Riccardi, 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 dai un bacio all'attipio, e che io non ha come un sacco, ma vince adesso, no? grazie 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 grazie